Pochi eletti hanno il potere di vedere. Un incontro straordinario dal vivo con le capacità extrasensoriali del Veggente. Dal vivo la mente è capace di farti comprendere il tuo passato e di svelarti le vie del futuro. Per vivere meglio è necessario capire le rivelazioni. Non rinunciare a sapere. Dal vivo il Veggente ti guiderà.